Bella raga! Prima di cominciare con il video vi volevo ricordare che se volevate acquistare una skin iconica ad un prezzo stracciato qua sotto in descrizione troverete il link per contattare gli Stranger Twins Vi lascio direttamente il loro Instagram così li contatterete in privato Se dite che appunto mi seguite raga che quindi utilizzate il codice Rampage avrete uno sconto veramente assurdo Dal prezzo di 40 euro questa skin ve la porterete a casa con un prezzo veramente stracciato di 20 euro Vi metteranno sia la skin che il suo balletto che adesso vi mostro Quindi mi raccomando ragazzi contattate gli Stranger Twins iscrivetevi al loro canale YouTube Detto ciò vi lascio con il video E' bianco eh Altri Minca poi quanta gente c'era o che due coglioni Niente 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 si ferma Che coglione No non si è suicidato però ha preso danno forse Eh infatti per quello Altri altri Oh sceldi E' qui No non è vero non è più qua non è più qua E' sotto E' sotto dove c'è la quadra di Omar mi sembra vicino lì Eccolo è qua è qua è qua è qua da me No è più qua è qui Suntocca Il Lo Prendi in testa Questo Suntocca No, 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 questi pushano, questi pushano Oh, mi t'ha sentito Dove è andato? In Africa, è andato a destra, destra Occhio, il costruzionario, la sinistra Eccolo lì Aspetta, se è boxato, ora è fermo quindi Vediamo se si scorge Prego, spara No, no, raga, raga Questo è bravo, questo è bravo Attenzione Cerchiamo di non fare troppi bigoli Siamo in safe, raga Andiamocene via, andiamocene in safe Oh, palla Palla Qua sopra E sono scesi Sono scesi, raga Questi vogliono il fight Ce li avete sopra? Eh, cazzo, cosa faccio? Eh, frate Perché siete scesi? Vabbè, ritorniamo da te, vai troppo Eh, frate, attento però, che vi beccano le spalle Mica, ragazzi, sono boxato Va bene, mi vedono Ha ripreso le palle? Io le rompo Occhio, occhio Oh, occhio Tenti a sporgervi troppo Oh, c'è uno che arriva volando là dietro, non c'è spuglio? No, non c'è uno che è bravo Eh, lo so, lo so, fra Provo a fargli la provata Mi spara un altro team Dal fianco Da dove? Non so, dal fianco Rompeli ancora il cazzo, PC Noo, non ci credo, non gli è entrato il colpo Raga, cosa state fanno? Fandola Mi chiamo ma arrivano direttamente questi qua sul fianco Merda, 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 raga Altre palle Bravo Fatto uno, qua No, raga, io non ci sono No, mi fa, mi fa Dio di puttana Eh, raga, io sono chiuso Mi continuano a sparare No, lo sta arrestando, Eddie Aspetta Ce l'ha fatto qualcuno Non capisco, se l'ho arrestato o meno PC, PC, rompi questo muro, metti il tuo Vai, raga, ha arrestato la lui Che raga, sto variendo Vai, Eddie, faccelo Bravissimo Eddie, devo farmi il medico Vabbè, è il card romper Sì, è bianco davanti, Eddie No, è giusto Sì, è troppo Contagio il giro Raga, contagio il giro Bravo, Eddie E li ha finiti Esatto Parca puttana, ma è illegale la minicab Sì, è giusto Da sei, un minuto guardi vai via bravissimo 10 io ci dico ah ma scusa avevo l'arrestato che l'ho conceso io no l'ho appena usato ma che non è entrato va per te dietro ma che la trappola lì che magari non ci fai caso va che ti pushano questi perché devo entrare minchia sei favore minchia 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 sei minchia un botto di hype c'ho minchia minchia nooo sta attento in questa infatti che c'è ancora qualcuno riesci a chiederti dentro non si siamo malati ma cazzo stanno fightandoli cazzo l'ho preso ma non so chi perchè sono preso eh esatto una messa la trappola in casa sono in due sono in due aspetta provo ad andare qua è ancora chiuso no ma io ne sento uno parca troia però questi stavano aspettando merda raga ormai che avevo un cecchino di merda vabbè finchè sei in bordo sei sporgiti zio sporgiti dai no cosa ne è entrato? guarda qua l'u c'è uno sopra c'è anche la finestra figa oh Oh Uli Detroitati Vai in c'i, vai in c'i, avanza bravissimo ma l'altro? ah è qua vabbè ho fatto nooo nooo quanti hype abbiamo fatto sto game raga però tantissime